E' già il 9 aprile e lo aspettavamo impazienti. L'amore bugiardo Gone Girl di David Fincher esce in un video su disco Blu-ray, in un'edizione digipack cartonata, elegante e raffinata. DVDstore.it, con i suoi soliti imballaggi super protettivi, ce l'ha fornito in tempo record. Se seguite il nostro canale e la pagina Facebook saprete che abbiamo già parlato del film in tutte le salse. Come promemoria vedete questi due rettangoli in sovrimpressione che conducono alla recensione cinematografica senza spoiler e ad un'analisi più dettagliata e ad un confronto con il romanzo nella recensione con spoiler. Il menu a cui ha pensato 20th Century Fox è una serie di titoli da notiziario, in stile telegiornalistico, che riprende il design delle locandine del film. Una barca alla ricerca del cadavere di Amy e un tramonto primaverile sulle sponde del Missouri. Tra un'intermittenza e l'altra scopriamo che i capitoli del film sono tutti titolati e che la lingua inglese è proposta in DTS HD Master 7.1 senza perdita di qualità, mentre l'italiano, come da prassi Fox, è veicolato da una codifica DTS 5.1 lossi, chiara nei dialoghi e vibrante nella rumorosa colonna sonora, ma che non può competere con l'originale inglese in termini di profondità e fedeltà ambientale. Chi vede il film per la prima volta si preoccuperà maggiormente di capire tutti i dialoghi, comprendere l'intreccio e probabilmente non farà caso alla dinamica dei diffusori, ma con una seconda visione ecco che scoprirete un secondo film, che si distingue dai tanti thriller investigativi anche grazie ad un messaggio sonoro cupo e ritmato e ad una fotografia morbida ma dettagliata. Fincher ha scelto per Gone Girl delle cineprese digitali Red Epic Dragon, il fiore all'occhiello del girato 6K, che promettono, insieme alle nuovissime Ari Alexa, di pensionare la pellicola 35mm senza nostalgie. Il quadro video qui esaminato è forte di una compressione minima, abile nel restituire figure tridimensionali e un livello di dettaglio netto, specialmente sulla barba incolta di Affleck e sui capelli di Rosamund Pike. E a proposito dei capelli della mitica Amy, il commento del regista, che è sottotitolato in italiano, è l'unico extra del supporto e svela come in realtà Rosamund Pike abbia indossato diverse parrucche per esigenze stilistiche, così come si apprende che la produzione si è fermata tre giorni quando Ben Affleck si rifiutò di indossare un cappellino da baseball della squadra avversaria. Una scelta non professionale risolta comunque in armonia, dal momento che il duo Affleck-Fincher tornerà in sala tra qualche anno con il remake di Delitto per Delitto di Alfred Hitchcock. E' un vero peccato che Fox non abbia incluso nel Digipack italiano il booklet della mitica Amy, uno speciale libretto fotografico contenuto sia nell'edizione inglese che americana, che raccoglie le vignette più celebri dell'infanzia di Amy fino a delinearne i primi preoccupanti sintomi di psicopatica ossessiva. Acquistate la vostra copia in DVD e Blu-ray su DVDstore.it, facendolo sosterrete il nostro canale e così potremo continuare a pubblicare video recensioni. Trovate i link di acquisto nella descrizione qui sotto. Lasciate inoltre un segno del vostro passaggio. Cliccate mi piace, lasciate un commento e condividete il video con tutti gli amici che hanno amato questo film. Alla prossima!